Ho trovato un ambiente, sicuramente si vede che questa città si respira basket, insomma un gruppo, siamo tutti nuovi, ci stiamo unendo sempre di più, comunque vedo, c'è intesa, insomma in queste settimane di allenamenti stiamo cercando di crescere come squadra, di trovare appunto il feeling che ci serve per giocare al meglio. C'è stata un amichevole contro Angri in settimana, ci sono state delle ottime indicazioni o c'è da lavorare ancora? C'è da lavorare ma ci sono anche sicuramente state le ottime indicazioni e comunque il lavoro non manca mai e si punta su quello a migliorare appunto i difetti che abbiamo. Questa Delfest è pronta per ambire a grandi traguardi o manca ancora qualche tassello per completare il roster? Sicuramente il tassello manca, vedremo un po' in questi giorni e noi daremo il nostro massimo. Il giusto mix tra esperienze e gioventù è un buon segnale? Certo, certo, c'è un bell'ambiente anche in campo, si lavora, si lavora bene, questo fa piacere.